Gesù agisce nello stesso modo con cui vede agire il Padre. La presenza di Gesù e il suo agire sono la mediazione necessaria per conoscere il Padre, che l'umanità non può vedere. La Chiesa, la comunità dei credenti, i discepoli di Gesù, coloro che ascoltano la sua parola e imitano il suo esempio, rendono Gesù visibile al mondo che non lo conosce. Cerchiamo la verità profonda nel nostro cuore. Facciamo uscire da noi il frastuono e il buio, i blocchi della menzogna, l'immagine errata che ci siamo fatti di Dio. Quanto tempo durante la tua giornata spendi nella lettura della parola di Dio? Cosa ti allontana dalla preghiera autentica?